salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi cominciamo con la sesta settimana di allenamento ragazzi cominciamo con il petto ovviamente lunedì tutti lunedì faremo petto come primo esercizio abbiamo una banca piana con 68 kg come eravamo rimasti come eravamo rimasti l'ultima settimana domenica scorso 68 kg eravamo arrivati sorprendentemente sono aumentato 8 kg non me lo aspettavo vedremo oggi se riesco ad arrivare a 70 dipende tutto dalla forza che ho intanto ci facciamo queste serie faremo quattro serie per 5 con 68 kg prima però andiamoci a pensare ragazzi 60.50 kg quasi come la volta scorsa grasso corporeo 14,6 per cento è aumentato un po ragazzi ci sta adesso però cominceremo una dieta e andremo a perdere tutto questo grasso corporeo cercando di mantenere più possibile il peso corporeo ovviamente rispetto all'episodio scorso siamo calati di 100 grammi il grasso corporeo è aumentato di 0,9 per cento incredibile ragazzi un per cento di grasso corporeo in più rispetto a venerdì ricordiamo in più rispetto alleجime non c'è nessuno che non c'è nessuno che si può faremo il grasso corporeo corporeo ci sta più diverse Ragazzi alla fine ce l'ho fatta, 70 kg completate, 5 reps chiuse, ovviamente ragazzi adesso mi concentrerò di più su questo peso, vediamo la prossima settimana di fare un 4x5 con 70 kg, visto che ora ho fatto solo l'ultima serie ed è riuscita, quindi contiamo di fare un 4x5 con 70 kg. Adesso come secondo esercizio abbiamo panca inclinata con 50 kg, proviamo i 50 kg e poi faremo 3 serie per 8, 3 serie per 8 e poi la declinata 3 serie per 8 con lo stesso peso. Musica 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 bene ragazzi anche panca declinata stata fatta adesso lanciate dal basso 12 kg 3 serie per 10 grazie a tutti ovviamente adesso apertura 3 serie per 10 con ben 16 kg grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie ovviamente adesso andremo a fare addominali cominciamo con il primo esercizio faremo il crunch 3 serie per 20 ripetizioni ovviamente come sempre sempre quelle rimangono i abdominali almeno per ora primo esercizio faremo questo poi laterali e poi i passi ci vediamo con l'esercizio e poi i passi ci vediamo con il primo esercizio come dato adesso secondo esercizio abbiamo crunch laterale ragazzi ragazzi 3 serie per 10-15 ragazzi esercizio esercizio mortale ancora oggi questo esercizio mortale ancora oggi soffro a farlo tempo vediamo qua we'll b nam if they suffered and a death level and all'czema con il bisogno di un'altra domingo questo esercizio addominali completati ovviamente check fisico scusate ragazzi ho il fiatone faticosissimo queste serie ma vabbè check fisico ci vediamo al prossimo episodio ciao